I saldi a partire dal 4 luglio in un clima per la prima volta da diversi anni a questa parte di maggiore fiducia da parte di famiglie e di imprese. Sentiamo Giamma Giovannelli. Guardi, ho acquistato una camicia di lino perché a giorni dovrò partire, quindi ho approfittato di questi sconti. All'interno sono iniziati i pre-puntini-puntini. Non chiamateli saldi perché ufficialmente partiranno a Roma e nelle altre province della regione sabato 4 luglio. Cosa sono signora? Sono degli sconti di fine serie del 20-30% che noi facciamo ai nostri clienti e non per arrivare al 4 luglio con i saldi del 50%. Vendite promozionali, offerte, sconti di fine serie, chiamiamoli come vogliamo. Quel che conta è che c'è già un gran fermento soprattutto nelle strade del centro, ribassi fino al 30% e c'è chi ne approfitta per accaparrarsi un capo che non può mancare nel guardaroba. Avevo già tocchiato qualcosa per paura che dopo non trovo più le taglie. Facciamo una passeggiata con le amiche e approfittiamo per fare i primi acquisti. Che sconto le hanno fatto? Del 30%. Dati rassicuranti sui consumi delle famiglie italiane arrivano dal centro studi della Confcommercio, secondo cui il dato di giugno recupera quasi del tutto le perdite subite nei due mesi precedenti, mentre per le imprese il miglioramento è diffuso a tutti i settori e la stessa fiducia si respira tra gli esercenti della capitale. Abbiamo riscontrato che c'è più sicurezza nelle persone, c'è una leggera voglia di ritornare alle spese. Per i saldi prevediamo che ci sia comunque un incremento che forse sarà un 4,5% fino a sfiorare il 10% in più dell'anno scorso.